Grazie Presidente. Onorevoli colleghi, membri del Governo, intanto in premessa voglio dire che se questa modifica sarà applicata per i fatti, per i delitti che verranno commessi dopo l'entrata in vigore e non perché lo vogliamo noi, ma perché vive Dio, la legge penale è irretroattiva ed è giusto e doveroso che sia così, allo stesso tempo noi riteniamo che la giustizia debba essere giusta e rapida. Con queste norme, che non sono norme spot, ma sono norme che danno una certa rispondenza con il sentimento del Paese, noi la rendiamo giusta e con il codice di rito nuovo per il quale questa maggioranza si è impegnata a metterlo giù entro un anno, la renderemo anche rapida. Voglio anche dire a chi mi ha preceduto che più che preoccuparmi per la decorrenza dei termini di scarcerazione per chi è in misura cautelare, io mi preoccuperei di irrogare una pena giusta anziché fare degli sconti preventivi e consentire a dei veri e propri mostri di beneficiare, grazie a questi scontri, anche dei benefici in fase di esecuzione della stessa pena. Riteniamo che questo provvedimento sia un provvedimento di equilibrio tra lo Stato e i cittadini. Lo Stato e quindi la sua pretesa punitiva e i cittadini rispetto al diritto di difesa che, come è stato ampiamente detto prima, non viene per niente calpestato, anzi viene tutelato. Io non voglio ripetere in questo mio intervento ciò che è già stato detto prima dai colleghi Pilon, ovvero quali sono i reati che vengono eliminati dalla possibilità di ricorrere ad un rito abbreviato. Sono reati che hanno un impatto sociale devastante e per i quali riteniamo che ci debba essere una pena esemplare e una pena proporzionata. Perché non viene intaccato il diritto di difesa? Intanto perché se la richiesta di ammissibilità a rito abbreviato in fase di udienza preliminare viene respinta, la stessa può essere reiterata sempre durante l'udienza preliminare fino alle conclusioni della stessa fase, ma via di più anche durante il dibattimento può essere reiterata qualora appunto il giudice dovesse ritenere che appunto non sia da applicare la pena dell'ergastolo, così come se ci dovesse essere una rimodulazione in melius della contestazione, l'imputato ha la facoltà di riproporre questa istanza. Quindi il diritto di difesa è ampiamente tutelato, è ampiamente garantito e soprattutto perché questa possibilità, questa facoltà viene consentita con una valutazione che il giudice fa in concreto all'interno del processo. Quali sono gli obiettivi che con questa norma e non soltanto con questa norma noi ci prefiggiamo di raggiungere? Intanto è quello di avere il bene in mente di avere uno Stato autorevole, di uno Stato affidabile e di uno Stato giusto. Uno Stato autorevole è lo Stato che è presente, che c'è e che fa rispettare le regole che devono essere rispettate. Affidabile perché svolge fino in fondo il ruolo che ha e giusto perché appunto commina tramite la magistratura le pene giuste. Troppe volte abbiamo visto in giro degli delinquenti, incalliti, feroci, che più che andare ad espiare una pena tra le mura delle patrie e galere hanno fatto una vera e propria vacanza all'interno di quelle mure. Non è giusto che di fronte a questo tipo di esecuzione di pena poi ci si lamenti perché magari la parte civile non ha avuto il giusto risarcimento. E' giusto che la parte civile abbia il risarcimento che merita ma è anche giusto che il delinquente possa espiare così come merita la pena che gli è stata irrogata. Quindi nessuno sconto preventivo. Scusi, posso invitare i colleghi ad abbassare un pochino la voce? Io ho difficoltà a sentire il senatore, cortesemente. Grazie. Grazie Presidente. Nessuno sconto preventivo. Il giudice di sorveglianza valuterà durante l'esecuzione di questa pena qual è il percorso di riabilitazione del condannato. Questo sì, non verrà anche negato da questo punto di vista. Ma la pena che viene irrogata secondo questa norma è una pena esemplare, proporzionata e soprattutto è rispettosa del dettato dell'articolo 27 della nostra Costituzione. Ovvero la pena è e rimane rieducativa in modo da poter consentire al condannato di riprendere a vivere giustamente da un punto di vista privato ma anche sociale la propria vita laddove ha appunto espiato la condanna che gli è stata combinata. Un ultimo aspetto. Io penso che gli italiani, noi pensiamo che gli italiani abbiano detto più volte in diverse forme e con diversi strumenti che non ne possono più di un diffuso senso di impunità che vige in Italia e di un diffuso senso di impotenza dello Stato che vige in Italia. E questo va sicuramente debellato perché il senso di impunità e il senso di impotenza sono degli aspetti negativi che riguardano tanto i malfattori quali di fronte a questo senso di impunità e di impotenza sono spinti a continuare la loro vita delinquenziale ma anche verso gli onesti che sono presi da uno spunto, da uno stato di frustrazione che sicuramente diminuisce e allontana l'affidabilità tra i cittadini e lo Stato. Riteniamo che c'è un altro tassello importante che questa maggioranza e il Governo abbiano messo su rispetto al mondo della giustizia che noi porteremo avanti con delle regole di merito ma soprattutto con il rito del nuovo processo penale che renderà il processo all'altezza della nostra civiltà più rapido e più giusto. Grazie.